Què? 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 Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di stampa 3D! Oh yes! Anche se questo video dovrebbe uscire tipo il 3 dicembre, io lo sto registrando il 14 novembre, cioè due settimane prima, e sono ancora a Trento. Sono ancora nella casa vecchia, la stampante è ancora lì nella vecchia sistemazione dell'armadio. Oggi andiamo a parlare di due argomenti, la vase mode e i filamenti flessibili. Quindi se siete interessati solo a uno dei due potete guardare una parte del video. Adesso cominciamo con la vase mode, molto interessante, ma se siete interessati solo al TPU, ai filamenti flessibili, a come stamparli, se la Ender 3 li legge bene, spoiler benissimo, eccetera. Saltate al minuto Tot, che comparirà qua sulla mia maglietta che è nera apposta, lo sponsor invece non è apposta, dovrei censurarlo ma mi dimentico. Cioè sponsor, mi sono messo una maglietta a caso. Se siete interessati solo ai flex, saltate a quel punto del video. Cominciamo noi invece con la vase mode. Questo che cos'è? È un vaso appunto, perché la vase mode, detta anche Spiralize Outer Contour, su cura, ha un nome lunghissimo solo per dire modalità vaso. In cosa consiste la vase mode? Come utilizzarla al meglio? Come fare dei simpatici vasi? Perché questo qui è un vaso di notevoli dimensioni. Nel senso, per stampare un oggetto del genere, anche se avesse densità bassissima, se non fossi in vase mode ci metterebbe diverse ore, parecchie ore. Ci ha messo, penso, tre ore a fare questo bellissimo gufo da stampante. Sicuramente, figuratevi un vaso di queste dimensioni che è alto tipo il doppio del gufo. Ma la vase mode ci permette di risparmiare un sacco di tempo per fare solo vasi. È solo per fare vasi o sculture vasiformi. Dopo ne parliamo. Praticamente una stampa 3D normale, e adesso questo qua diventa il mio ugello della stampante, in una stampa 3D normale la stampante fa i muri, quindi fa due, tre giri, quattro giri, in base allo spessore dei muri che avete impostato, e dopo riempie, o prima, a seconda di come l'avete impostato, riempie la parte in mezzo ai muri. Che sia bassissima la densità, che magari caccia solo tre linee e dice l'ho riempito, oppure se avete messo 100% di densità lo riempie tutto, comunque fa prima il muro, dopo riempie e poi passa al layer successivo. La vase mode invece non funziona così, è completamente diverso. La vase mode si capisce meglio se lo chiamiamo col nome di cura, cioè Spiralize Outer Contour, cioè spiralizza il contorno esteriore, praticamente in questa modalità il filamento viene depositato a spirale. Un solo layer di spessore di parete, cioè questo vaso per quanto sia veramente resistente, ma è resistente solo perché è tutto pieghettato ed è bellissimo, ma adesso ne parliamo, è spesso solo un layer di plastica, non so se lo vedete, cioè lo spessore è proprio un filamento, ed è stato tutto depositato a spirale. Praticamente la stampante va avanti a spirale e ovviamente impiega quasi niente di tempo, perché per fare un layer di altezza non deve fare tre volte il muro più riempimento interno, ma deve fare solo un giro. Con un giro ha già fatto un layer e dopo sale e fa il layer successivo. E va avanti così a spirale ed è velocissima a fare strutture anche belle grosse, si possono fare dei vasi piuttosto interessanti, questo qua è il primo che ho fatto con la Ender 3, l'ho fatto giusto per provare a vedere come la Ender 3 stampasse in waves mode. E niente, insomma, può tornare veramente utile. Se avete dei vasi da fare, da regalare, sono sempre belli, nel senso sono strutture che sono resistenti da tutti i punti di vista, sono molto resistenti essendo così pieghettati, alcuni di più, altri di meno. la zucca che avevo fatto era un po' wobbly wobbly, pur essendo di PLA e non di flessibile, adesso ci arriviamo, ma quella lì non era nata per essere stampata in waves mode, e quindi non aveva tutte le pieghettature, era solo una superficie così e quindi si piegava un po'. Interessante notare che, ovviamente, direi, in waves mode viene fatto il pavimento, dello spessore che avete impostato per il pavimento, quindi il pavimento è in realtà pieno, come se fosse una stampa a terrile normale, ma non viene fatto il soffitto, cioè qualsiasi sia il vostro oggetto che fate in waves mode, voi lo importate su cura come un oggetto pieno, cioè qua lo vedrete chiuso, è come se fosse una forma chiusa, ma quando andate a fare lo slicing con spiralize outer contour cose, vedrete che in realtà lo scoprirete tutto vuoto dentro, perché appunto gli avete detto fammi una spirale e non fare un oggetto solido. Parte 2 è dedicata ai filamenti flessibili, guardate, è molto mollo. Questo è un chilo di TPU, un filamento, come ho detto, flessibile. Questo qua è di marca Sunlu, l'ho preso su Amazon il TPU Plus, semplicemente perché Tomassa 3D non mi fa il TPU. La Sunlu comunque non è malaccio come marca da Amazon, e infatti mi sono trovato piuttosto bene. Iniziamo a dire due cose, uno che il TPU non è l'unico filamento flessibile. Vi parlo del TPU perché questo c'ho in mano in questo momento, ci sono diversi filamenti fatti di diversi materiali, alcuni derivanti dal petrolio, alcuni derivanti da fonti biologiche, alcuni siliconici, non lo so, ci sono diverse cose. Ovviamente più flessibili, meno flessibili, hanno un indice di spieghevolezza, diciamo, e qua magari vi lascio anche in sovraimpressione una scala che avevo trovato su Google Immagini, dovrei riuscire a ritrovarla per avere giusto un riferimento della flessibilità. Diciamo che stampare con un filamento flessibile è in ogni caso e per qualsiasi stampante più difficile che non stampare il nostro ben amato PLA. Perché? Perché il filamento è flessibile appunto e non ci interessa tanto la flessibilità, il senso del filo, quanto il fatto che il filamento si può comprimere e tendere. Vedete che io un po' posso strecciarlo, posso allungarlo e anche se lo spingessi comunque si comprimerebbe un pochettino. Diciamo è molto meno inestensibile del PLA. E questo è un problema, soprattutto è un problema per le stampanti Bowden come la Ender 3. Bowden cosa vuol dire? Vuol dire che hanno l'estrusore indietro, l'estrusore è il motore, quello che gira e spinge il filo, lo hanno indietro e poi c'è tutto il tubicino bianco di PTFE, che è un materiale strano, vabbè, tutto il tubicino bianco che si chiama appunto Bowden, che arriva fino al nozzle, fino all'ugello. Dove c'è il motore che spinge il filamento? All'in fondo, all'interno di tutto questo tubo, il filamento, quel pezzo di filamento, che siano 15 cm, 10 cm, 20 cm, dipende da com'è, tutto quel pezzo di filamento trova una resistenza in fondo dovuta dallo strettimento dell'ugello e qui in fondo viene spinto o viene tirato e quindi lui che rimane lì attaccato in fondo nell'ugello di stampa, il mio braccio non si allunga purtroppo, su quella parte spinta e tirata si allunga e si accorcia, rendendo la stampa disomogenea e brutta. Fortunatamente la Ender 3 è un'ottima stampante per stampare i filamenti flessibili pur essendo Bowden. Ovviamente quelle con il motore estrusore in loco appena sopra l'ugello sono per forza di cose migliori, ma questa qui quando è stata progettata è stata pensata nell'ottica di strizzare l'occhio anche ai filamenti flessibili. Perché? Perché c'è il pezzo vicino all'estrusore perché? Perché c'è il pezzo vicino all'estrusore che è stato fatto con un'onda una specie di imboccatura che viene verso l'estrusore e si avvicina il più possibile in modo da non lasciare il fastidioso gap che c'era nelle stampanti precedenti c'era proprio un buco lì in mezzo dove ovviamente il filamento magari si piegava usciva anche andava in giro e quindi non arrivava mai all'interno del Bowden cioè proprio non c'entrava nemmeno le Bowden se ne usciva lì faceva gomito e cose ho messo un po' di impostazioni a caso giusto? Ho dimezzato la velocità di stampa perché vanno stampati comunque lentamente ho diminuito la retraction cioè quanto quando il nozzle si sposta da un punto a un altro dove in mezzo non deve stampare quanto il filamento viene ritratto appunto di solito col PLA tengo 6 mm di retraction cioè tiratelo indietro un sacco perché così non fai fili, capelli robe schifose in giro ma col TPU abbiamo detto che non si può tirarlo così tanto perché quello là si allunga e dopo quando lo spinge cioè non funzionerebbe quindi ho messo 2 mm e mezzo di retraction che comunque è abbastanza per un filamento flessibile ho fatto giusto qualche tweak alle impostazioni diminuito un po' la temperatura poi ho premuto avvia e mi ha stampato questo bellissimo polipo così cioè ci sono stampanti che ti dannano la vita per riuscire a stampare i filamenti flessibili che viene uno schifo viene tutto a buchi perché appunto il filamento viene tirato spinto si deforma cose strane invece guardate che bel polipo adesso purtroppo ho preso il filamento bianco perché era l'unico che c'era su Amazon però ho stampato proprio tirando a caso le impostazioni questo polipo c'è qualche micro buchino qua dietro gli occhi dovuto al fatto che avevo le pareti impostate solo a due layer poi ho rifatto il polipo adesso ne parliamo con spessore 4 le pareti e quindi è venuto molto meglio ed è bellissimo perché è un polipo gommoso guardate posso deformarlo posso appallottolarlo e si piega e si deforma ed è ancora un polipo cioè tipo è bellissimo un'altra cosa che ho sbagliato a stampare questo polipo è l'infil cioè il riempimento ho fatto il riempimento a croce il riempimento normale quello che si fa per le stampe normali col PLA non rendendomi conto da ingegnere avrei dovuto che ovviamente resiste in maniera molto diversa nelle diverse direzioni perché sono tutte lamelle messe in verticale quindi questo polipo è poco flessibile in verticale guardate adesso sto schiacciando un sacco e si deforma ma scende poco invece in orizzontale è proprio inesistente posso spremerlo posso distruggerlo adesso sto schiacciando addirittura meno di prima però anche la mano delle corna è venuta bene si vedrà mai comunque è venuta bene il polipo è venuto piuttosto bene ma alla luce di tutte le cose che ho sbagliato poi ho deciso di rifare il polipo ed è venuto ancora mai è venuta una figata ho fatto intanto le pareti più spesse come vi ho detto questo qua non è un polipo che fa le corna è un polipo normale ed è venuto veramente bene quindi poi in descrizione troverete il link per scaricare il cura profile cioè il profilo con tutte le impostazioni di stampa se siete interessati a stampare PETG su un loo l'infil invece di farlo cross non mi ricordo mai come si chiama quell'altro questo qua si chiama cubic è quello cubico praticamente fa dei cubi appoggiati su un vertice per dire come se fossero dei cubi appoggiati su un vertice e che quindi sono forme che più o meno hanno la stessa risposta di elasticità ovunque le premete infatti questo polipo adesso posso prenderlo dal fianco posso prenderlo da sopra ha una sensazione bellissima questo perché questo qui è troppo mollo dai lati sembra tipo un gioco per i cani e da sopra è un po' duretto è un po' strano invece questo qui dà una sensazione bellissima perché ho trovato proprio la consistenza giusta è tutto uniformemente è tipo spugnoso sembra quasi avete presente come si chiama gli anti-stress le forme anti-stress ha la stessa consistenza proprio bellissimo e posso maltrattarlo posso piegarlo posso distruggerlo e resta sempre uguale perché è flessibile quindi veramente mi è piaciuta come ha stampato la Ender il TPU sapete che come ho detto ne esistono altre di plastica e di diversi materiali il TPU è fatto a partire dal mais o dalla canna di zucchero o non lo so cosa comunque è di origine biologica come il PLA quindi è anche biodegradabile è anche ovviamente non tossico in nessuna maniera e ovviamente come il PLA soffre l'umidità quindi vi consiglio sempre di tenerlo in una scatola con coperchio ermetico e dentro le bustine di silica gel anche se assorbe meno umidità del PLA e comunque poi le bobine che vi si rovinano perché hanno preso umidità basta che le mettiate qualche ora in forno a 50 gradi non di più perché vi si scioglie tutto 45-50 gradi le lasciate lì per 5 ore e si asciugano comunque per questo super video della stampa 3D è tutto pollicione in su se il video vi è piaciuto come dicevo in un altro video che non so se avete già visto o dovete ancora vedere adesso YouTube da computer anche se il video è a schermo intero potete scorrere con la rotellina e il video da schermo intero sale e potete mettere il pollice in su mentre lo guardate quindi non vi serve neanche togliere il video da schermo intero basta che scogliate un pelo in giù e mettete quel pollice in su vi ringrazio se lo farete se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché trovate un sacco di roba interessante sulla stampa 3D sui droni su cose varie perché si parla di cose varie qua super volte per questo mercoledì è mercoledì? non so se sia lunedì o mercoledì quando esce questo video sarà tra troppo tempo comunque ciao a tutti ciao a tutti